Stanno nascendo le nuove province piemontesi. Per eleggere i presidenti e i consigli si voterà domenica 12 ottobre. Saranno chiamati alle urne tutti i sindaci, i consiglieri comunali e i consiglieri provinciali uscenti. La nostra regione avrà un consiglio metropolitano, quello di Torino, con 18 consiglieri e 7 consigli provinciali, vale a dire Alessandria, Cuneo, Novara con 12 consiglieri ciascuno, Asti, Biella, Vercelli e Verbano Cusiossola con 10 consiglieri.